Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui a parlare di un nuovo GDR che ho avuto la fortuna di poter provare in anteprima grazie agli eventi che si fanno al Polo, questo locale che ho già parlato molte volte di qui nella mia zona, andate a recuperare i video dove parlo del Polo Nerd ma soprattutto grazie a Grumpy Bear che l'ha tradotto e ce l'ha portato e ce l'ha fatto provare, sto parlando dell'Apocalypse K mi hanno anche regalato alcune avventure Apocalypse K è un gioco che a me ci ho giocato solo tra rette solo perché troppo il tempo è quello che è e mi ha molto divertito ho capito come funziona il gioco anche parlando con i bravissimi master che erano lì nonché anche traduttori del gioco e sono qui a portarvelo a portarvelo per farvi conoscere un altro di quei sistemi che io ho provato spesso però non ho avuto mai occasione proprio di parlare a pieno ho visto che non ho nessuno di miei GDR che è PBTA, cioè un Playby di Apocalypse che è proprio un sistema di gioco adesso che ne ho provati un po', ne ho visti un po' posso anche parlare di questo sistema e ne approfitto portando tanto bene il Quest GDR che ho giocato da poco e ce l'ho ancora fresco allora iniziamo prima di parlare del gioco e del suo sistema quindi il sistema come funziona a livello di regole per poi entrare sui concetti sul tutto PBTA, un Playby di Apocalypse, essenzialmente utilizza il D6 i risultati non sempre il più alto è migliore in questo caso hanno scelto dei range in cui muovere questi risultati e dare più spunto alla narrazione perché la base di questi giochi è proprio la narrazione i conflitti, le scene si risolvono con dei tiri che si ripercuotono su quello che accade prima si tira e poi si narra perché si narra quello che viene fuori dal risultato in base a quello che si sceglie nell'azione e essenzialmente il conflitto è sempre il continuare a creare, a narrare non è una narrazione condivisa ma c'è tantissimo spazio ai giocatori tramite il tiro che fanno nel costruire il tutto i giocatori scelgono gli approcci c'è la tutta bellissima fotocopia con gli approcci che puoi tenere che sono molto vasti in base a questo gioco 6 molto elevato di potere adesso ne parlerò e quindi sta molto al giocatore costruire la scena dare impronta al proprio personaggio questa è una cosa molto bella e infatti per questo è piaciuto parecchio il master ovviamente gestisce tutto e dà i spunti con cui i giocatori possono andare avanti specialmente in questo gioco diciamo non è che ti imbocca però ti dà tanti tanti spunti dove i giocatori costruiscono la scena il master sapendo cosa accadrà perché ha fatto la sua avventura o ce l'ha pronta sa dove andare a parare sa cosa dare comunque questo è generico entriamo nello specifico cos'è l'apocalypse game? Apocalypse game farò degli esempi perché ovviamente se no diventa troppo lungo il video è praticamente un GDR su personaggi supereroistici ma non a livello positivo fare l'esempio infatti alla Doom Patrol che è una serie che c'è anche su Amazon mi sembra fare esempio tanto bene a Hellboy Hellboy pens che è un personaggio uscito in parecchi film tutti ben conoscono infatti uno degli archetipi è proprio identico a Hellboy tutti personaggi molto potenti che però hanno dei tratti tra virgolette negativi hanno dei pesi ok? hanno qualcosa che li li opprime e si crea questa dicotomia perché io superessere supercreatura non distruggo la razza umana e invece rimango ancorato non essendo magari un diavolo un mostro un angelo caduto non li rivoro non li schiavezzo o non creo un mio culto e su tutto questo ruota il gioco il gioco consiste ogni volta in dei casi perché la natura del gioco è che i personaggi agiscono per un'associazione che chiude i portali non li fa perdere portali verso altri mondi ogni volta c'è l'istruzione del mondo come scusa e ogni volta loro avendo questi poteri ci mettono le mani e fermano questi portali è ovvio che il fallimento di un caso non è la compatibilità di istruzione del mondo ma provocherà i danni perché comunque il portale sarà firmato ma ci saranno dei problemi da gestire anche se si fallisce la prova è molto carino il gioco perché in sé la chiusura di portali è ridondante cioè non è il fulcro il portale è la meccanica il cuore di questo gioco è il rapporto di personaggi il rapporto col mondo con i loro affetti è un gioco basato su proprio sulle campagne costruire una grande storia una grande storia proprio il manuale che mi ha fatto vedere anche un bel manuale quando uscirà a forma di libro molto carino manuale ha tutti gli strumenti per cambiare il tuo personaggio per far diventare magari ad un certo punto la storia con PNG così puoi giocare in un altro sono sette archetipi di questi personaggi customizzabili cioè l'archetipo così da capo fare semplici è il sopravvissuto che è il classico Superman Superman è il sopravvissuto da solo una terra lontana ma è andato un altro pianeta e lì ha un'altra storia io ho giocato l'evocato che è il boy l'evocato che è in trattura demoniaca messa su questa terra con poteri incredibili e così via un'altra persona al tavolo con me ha giocato l'ombra che è essenzialmente un non morto con poteri incredibili sulla morte una creatura che non può morire ma vorrebbe morire a poteri sulla morte e così via e così via questi personaggi ultrapotenti danno spunto a azioni incredibili il livello di potere è alto ad esempio c'era un PNG con noi che era un angelo caduto un angelo biblicamente accurato quindi quelli con sei aria a forma d'occhio orribili che ha poteri divini cioè è stato quasi più bello vedere il PNG cosa faceva che noi nel proseguire il caso perché era veramente curioso cioè questo per esempio enneggiava il potere del creazionismo cioè quando colpiva che era l'avivento a un certo punto lo costretto io a colpire in realtà creava cose vabbè questi sono i dettagli poi è un gioco completamente aperto come ho detto si aggiungo i dettagli mentre si gioca quindi cioè incredibile andiamo un attimo a spiegare così per farvi capire come funziona un caso classico bisogna chiudere un portale un portale ha una difficoltà che è spesso in un orologio che ho già spiegato in altri video l'orologio è un indicatore di tempo essenzialmente certe azioni mandano avanti l'orologio e quando l'orologio si riempie il portale si apre anche magari l'araldo che è l'antagonista di ogni portale c'è sempre qualcuno abbastanza in grado di fermare i nostri eroi che è in grado di far avanzare l'orologio con le sue proprie azioni certe azioni brutte che fanno durante i giochi i nostri eroi possono mandare avanti l'orologio dell'apocalisse quindi avvicinare al momento brutto e quindi perché fare questo orologio perché è il tempo che hanno i nostri personaggi per chiudere il portale chiudere il portale nella storia è bello perché è un tiro che puoi fare quando vuoi ok questo tiro ha una difficoltà che sai però ci aggiungi tutti gli indizi che trovi durante la prosecuzione del caso sei tu giocatore che decidi con chiudere il portale perché se tu che stai costruendo il caso mentre lo fai ok e questo è molto carino cioè tu ti ritieni fortunato o vedi che cose vanno molto male poi forza il tiro il fallimento del tiro ovviamente manda avanti il portale se non scatenarlo direttamente quindi c'è sempre il valutare comunque c'è molto fattore casuale in questo gioco per esempio come ho detto ti ritieni da 6 tu li modifichi con alcuni poteri che tra poco capacità che tutti hanno che tra poco vi spiegherò dal 7 in giù fallimento in tutti i casi dall'8 al 10 è il successo totale ciò che volevi fare avviene ciò che vuoi fare dall'11 in su è successo ma si scatta in effetti extra perché magari non controlli il potere scappa di mano viene fuori una cosa proprio insta nel personaggio io mi ricordo avevo un potere molto bello che si attuava solo quando combatte i personaggi con il suo combattimento non tutti sono da combattimento ma combattimento relativo se qualcuno può creare cose da propria fantasia capite che anche se andare a combattimento fa il combattimento ugualmente infatti sono termini un po' per altri giochi questi ma per farvi capire da un livello di potere avevo una capacità che quando combattevo qualcosa di immenso colossale e io avevo una tabella di valore a parte però se facevo da 11 in su dovevo combattere per forza dopo gli altri tiri a meno che qualcun di miei alleati non sacrificasse una sua risorsa che è il legame non potevo fermarmi fino alla completa distruzione che non sempre è un malus non sempre è un malus però tagliava le scelte che attualmente si potevano fare almeno a questo personaggio è molto interessante è molto molto interessante queste meccaniche comunque portali stavamo parlando costruzione dell'avventura si trovano queste chiavi si chiamano che sono sostanzialmente gli indizi i motivi cosa sta accadendo ogni volta tu trovi certe cose si mette una chiave queste cose si costruiscono ok si costruiscono insieme questo è molto carino c'è la stessa avventura può essere giocata in modi molto diversi proprio perché tu la costruisci in maniera estremamente diversificata ha tot chiavi quindi devi fare un conto perché anche il portale ha lo stesso valore il portale base a quanto è difficile dà delle penalità ovviamente ma se tu vai sopra l'11 l'11 è sopra si chiude ma dovresti riusci a fotte i 10 dà una volta al 10 come gli dici come faccio a fare i conti al limite posso rischiarmela e andare sempre un pochino più sopra per non far fallimento ecco per quello qualcuno può tentare anche direttamente chiudere il portale un portale con una difficoltà abbastanza bassa e comunque la penalità pensi a un vene in tiro alto scappa in tiro alto e tu lo chiudi scappando 12 meno 4 fai 8 sono conti assurdi stai scappando più 1 è la fine ma stai scappando più 1 e hai preso molte chiavi e tu ti ricordate che con il doppio uno riesci anche a fare quella cifra punte di ribassi ma questo vabbè non ci puoi fare conti sulle cifre che stanno in mezzo è un pochino più difficile è molto più dettato al caso i personaggi che risorse hanno la risorsa fondamentale del gioco è la rovina praticamente il personaggio è questa dicotomia con il fatto di essere o è salvare con perché non distruggo tutto la metto in maniera molto terra a terra perché se no ci farà fare un video di ore la rovina la comunica quando fai qualcosa di orribile quando paghi un prezzo perché per le attrazioni puoi pagare un prezzo c'è sempre lo scambio fra master e giocatore in base al tiro che fai puoi prendere rovina ti dà rovina e arrivato a 5 tu vai in rottura praticamente viene fuori la parte orribile che non è il game over del personaggio no in quel momento in quella scena tu ognuno certo punto di rottura dovrai giocare determinate cose che andranno a ripercuotersi sul futuro del personaggio e magari del mondo quindi stai attento ad andare in rovina ad esagerare l'altra moneta questa è una moneta che hanno i personaggi dell'oscurità sono dei token che tu prendi quando fai determinate cose per tutti i diversi perché va in base alla persona infatti questo è tutto sull'ambito narrativo scelto quanti prenderni da 2 a 4 ogni volta succede qualcosa il master ti dà questi token in base a come vede perché sa davanti a sé magari il foglietto con i vostri tratti il problema quale? che se ce ne hai 5 fai una mossa paghi un'altra conseguenza perché l'oscurità quella che ti attanaglia colpisce e tu devi pagare un prezzo quindi non puoi accumularli devi tenerli a bada non puoi avere eccessivo potere prendere eccessivo potere devi comunque sfogare questo potere ti incita a essere te stesso e a usare i tuoi poteri non puoi stare quieto mentre giochi non puoi stare quieto come non puoi stare sempre zitto perché sei lì presente anche perché alcuni di questi tratti sono proprio sul fatto che se stai zitto ti danno il token oscurità dipende dal personaggio per esempio il mio è quando reagivo quando ci sono violenza che ci sono di qui davanti quando sento che sono abbandonato che nessuno mi ama cioè quindi questa è una molto facile che accadeva che il master me la chiamava quando chiedi a qualcuno di fare il suo meglio cioè quando incito gli altri a fare qualcosa cioè io praticamente sì non ho presi tanti non ho consumati tanti ma è questo il gioco giocare il personaggio ok stare in quel mood questo gioco ti ce lo mette tanto sette archetipi sono tanti per considerare sono archetipi insoscritti tu devi costruirli questi personaggi sono solo archetipi ma questi archetipi sono estremamente ampi sono proprio dei campi di esistenza c'è sempre il demone la morte il superessere l'angelo gli altri purtroppo non me lo ricordo ma sa che uno è la parola del tempo quindi avete capito c'è tanto spazio di manovra andiamo a vedere i legami i legami tu devi costruirci i miei giochi consumando i legami puoi appassare qualsiasi tiro del dado mi sembra tranne ovviamente la costruzione dei portali quindi cercare di consumare i legami che hai con i tuoi amici per trattenerti e quindi fare il tiro giusto che vuoi come usare i token oscurità alza scusate non l'ho detto usare spendere l'oscurità alza e tirere i dadi quindi tu puoi bilanciare i token oscurità li dichiari prima del lancio i legami li usi dopo il lancio stai su per tornare giù io ho usato diverti il tampon poi ho ventilato una ventina di aria testa sono usati abbastanza perché si prendono e si consumano facilmente poi ogni personaggio ha i suoi poteri personali ha i suoi poteri grandi per esempio l'ombra ha usato sempre sempre il suo potere della comunicazione dell'uso dei morti perché davanti a un posto che è fantasmico quindi l'ambito è incredibile per trovare informazioni ma anche per utilizzare cose d'altretomba io per esempio potevo creare qualsiasi cosa che le ombre per controllare le ombre quindi manifestare fisicamente le ombre in qualcosa di tangibile poi che cosa vediamo un po' dopo c'è tutto il concetto di oscurità quello che ricerca da te è quello che ti avvicina anche alla rovina quindi cercarvi allontanare certe cose ah come funziona non ci sono punti ferita sono le afflite condizioni sono quattro condizioni praticamente il personaggio peggiore questo vale anche per gli antagonisti peggiore le loro condizioni le condizioni sono diverse per tutti i personaggi alcuni si possono ripetere però sono diverse quindi ognuno reagisce a quello che gli succede fisicamente mentalmente spiritualmente diversamente fino al punto di andare alla rottura perché il personaggio non può morire è troppo potente o meglio non può morire nello scontro inteso come danni muore in altri modi il personaggio viene ritirato e si trasforma io per sempre avevo furia afflizione ossessione disperazione queste condizioni si recuperano a fine sessione o si recuperano con determinati tiri che ti danno certo reward poi anche recuperare anche le afflizioni infatti certi tiri scegli tu che ricompensa prendere stringere un legame recuperare una afflizione e c'era il tiro bellissimo che è aprire il proprio cuore proprio una manovra durante una scena tu puoi aprire il proprio cuore che magari non serve andare avanti nella storia non serve a nulla a livello di quel caccade ma con un pianeggio con un tuo stesso compagno tu metti ciccia sul fuoco tu costruisci la tua storia recuperi quella afflizione si mette nero su bianco un altro pezzo del pg e capite quanto diventa bello fare un'avventura una campagna quanto in realtà in poche sessioni tu hai scritto il libro delle storie tu quei personaggi li hai appienati e infatti a un certo punto quando chiudi una storia del personaggio se ne hai appenaltra può diventare un png può morire può trovare la pace perché può anche trovare la pace anche se è un di temi tra e verità però tanta roba tanta 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 roba e non so se riesco in questo video a esprimere il tutto comunque concludo perché sto arrivando a 20 minuti le manovre che si possono fare sembrano veramente tante ma in realtà una volta imparate sono tutte le possibili opzioni perché ogni manovra è un tiro che ha tre risultati sotto al 7 sotto al 10 e al 12 più cose più tutte le cose che ti dà il reward che possono essere chiavi per portare fare legami togliere le condizioni scoprire dettagli importanti su quello che sta accadendo che è ottimo per poter proseguire una storia avere come dice vantaggio vantaggio pesante nella scena quindi capite che costruire una storia è veramente veramente bello e la costruisci non a ruota libera con gli strumenti che ti dà il gioco questo è importante perché quando tu hai la libertà tu hai di far qualcosa la mente umana un po' si ferma non ha paletti non ha argini non ha struttura quando tu rincanari tu ti affili cerchi di muoverti in quello spazio che per quanto possa sembrare limitato o poco limitato comunque comincia a costruire qualcosa tu insieme ad altri questo è un gioco che dà tre al massimo cinque persone numero ottimale è tre proprio tre quattro e si creano tantissimi questi legami non solo proprio di meccanica ma proprio anche di perché questi si muovono che vita fanno viene fuori tutto viene fuori tutto naturalmente mentre si sta giocando mentre succedono cose perché tu chiami un pezzo della loro storia la metti mentre crei un legame è molto molto interessante penso di non dilongarmi ulteriormente dopo c'è l'avanzamento lì veramente i personaggi crescono possono prendere altre abilità possono scegliere cosa progredire non c'è un livello si prendono alcuni tratti o alcune cose io direi di chiuderla qui Apocalypse K quando faccio questo video non è ancora uscito ma uscirà a breve molto interessante specialmente per il tema quindi queste super creature dark con i loro problemi e la loro natura non pulita che danno una mano che cercano di muoversi nei vari mondi nel loro modo e soprattutto cercano di non perdersi nell'oscurità fatemi sapere se vi è piaciuta questa spiegazione se siete interessati e se un giorno lo comprate lo provate commentate e datemi la vostra opinione su questo PBTA soggita dirlo per i vari apocalypse vi ringrazio condivisione mi piace e che mi aiuta come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti